Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dal maltempo, è in corso un'allerta per vento e pioggia su gran parte della regione, prevista neve inoltre su gran parte della Toscana. Ricordiamo l'obbligo di catene a bordo o dotazioni invernali. Voltiamo pagina per il traffico urbano di Firenze nell'ambito dei cantieri tramvia, per lavori relativi alla rete di distribuzione del gas. Da lunedì 11 a giovedì 14 dicembre, in orale notturno, 21.05.30, via Valfonda sarà chiusa. I percorsi alternativi sui nostri canali social. Prima di salutarci per il traffico aereo, quest'oggi i voli Firenze-Francoforte delle 10.05 e delle 18.40 sono cancellati. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio! Per ora è tutto, buon viaggio!